buonasera da michele rigoni e da guido ruberto benvenute e benvenuti a storia lette questa sera vi faremo ascoltare le parole di Woody Allen nel suo a proposito di niente la biografia e soprattutto la biografia artistica di Woody Allen la conosciamo tutti quanti un artista di grande genialità di grande ironia sarcasmo brillantissimo profondo anche in tutti i film che ci ha regalato in questa sua biografia c'è meno questa sua vena quanto piuttosto è una ricostruzione quasi minuziosa di tutta quanta la sua vita la sua lunga vita ha superato gli 80 anni per cui parla dei suoi primi anni dei suoi primi incontri d'amore l'inizio della carriera la passione per la musica si sistema sistema anche qualche sassolino che ancora nella scarpa nei confronti di una delle mogli mia faro con cui ha avuto un contenzioso di altissimo livello e problema per lui quindi qui e là affiora naturalmente la battuta sagace la prontezza di spirito a cui ci ha abituato eh mentre leggiamo le sue pagine la sua eh il suo viso ci appare sempre davanti e ci racconta tante storie però appunto è una Woody Allen particolare che leggiamo in questa sua biografia quindi vale la pena di eh di conoscerla di dedicare del tempo alla lettura di queste pagine comincio subito leggendovi una parte introduttiva di a proposito di niente di Woody Allen come il giovane Holden non mi va di dilungarmi tutte quelle strozzate alla David Copperfield anche se in questo caso i miei genitori magari possono essere un soggetto più interessante del sottoscritto mio padre per esempio è nato a Brooklyn quando era ancora tutta campagna raccatta palle per i Brooklyn Dodgers giocatore di biliardo bookmaker un ebreo piccolo di statura ma che non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno e che sfoggiava camicie sgargianti e capelli imbrillantinati pettinati all'indietro alla George Raft non aveva frequentato le superiori e si era arruolato in marina a sedici anni in Francia aveva fatto parte di un plotone di esecuzione fuciliando un commilitone che aveva violentato una ragazza del posto tiratore scelto pluridecorato gli piaceva sparare e andò in giro con una pistola fino al giorno in cui morì con tutti i suoi capelli ancora in testa anche se grigi e dieci decimi di vista una notte durante la prima guerra mondiale la sua nave venne affondata a largo di qualche costa europea annegarono quasi tutti tre si salvarono raggiungendo la riva a nuoto affrontando le gelide acque dell'atlantico lui era uno di loro se ci fu un momento in cui rischiai di non nascere fu quello poi la guerra finì e suo padre che aveva fatto qualche soldo lo aveva sempre iniziato preferendolo spudoratamente a quei mentecatti dei fratelli non uso la parola a caso da piccolo sua sorella mi sembrava una microcefa tipo frix suo fratello un mollaccione pallido dall'aria degenerata ciondolava per strada di flatbush vendendo giornali finché si dissolse nel nulla così mio nonno dai soldi al suo figlio preferito il marinaio per comprarsi una bella macchina con cui quello va a zonzo per l'europa post bellica e quando torna a casa il vecchio ha aggiunto qualche zero al suo conto in banca e fuma sigari la corona e l'unico ebreo che fa il rappresentante di una grossa ditta di caffè mio padre gli dà una mano e un giorno mentre trascina dei sacchi passa davanti a un tribunale da qui sta uscendo kid dropper un noto gangster dell'epoca quando kid sale su una macchina un certo lui cohen vi spara dentro quattro colpi il tutto davanti agli occhi di mio padre il quale me lo raccontò varie volte a modi favola della buonanotte molto più divertente di quelle tradizionali a base di leprotti e coniglietti intanto mio nonno cercando di diventare un vero capitano un vero capitalista si compra un'agenzia di taxi e un bel po di sale cinematografiche tra cui il medwood theater dove passerò gran parte della mia infanzia in fuga dalla realtà ma questo avverrà più tardi prima dovevo nascere purtroppo prima che questo succedesse il padre di mio padre in preda all'euforia investì sempre di più a wall street potete immaginare come andò a finire un famigerato giovedì il mercato azionario fece patatrack e mio nonno fu ridotto all'istante alla povertà più nera taxi e sale cinematografiche scompaiono anche i boss del caffè si buttano dalla finestra mio padre dovendo improvvisamente occuparsi del proprio fabbisogno calorico si ingegna fa il tassista gestisce una sala da biliardo scuce quattrini a qualche pollo e falla al libratore d'estate se ne va a saratoga per gestire gli equivoci interessi i pici di albert anastasia da lì un'altra serie di favore della buonanotte quanto gli piaceva quella vita abiti eleganti soldi in tasca belle donne e un bel giorno incontra mia madre come abbia potuto mettersi insieme a annetti è un mistero pari a quello dei buchi neri due persone che non c'entravano niente una con l'altra come il protagonista di buglie pupe e anna arendt non c'era nulla su cui andassero d'accordo a parte hitler e le mie pagelle eppure malgrado i massacri verbali rimasero sposati per 70 anni giusto per farsi dispetto io immagino che nonostante sono sicuro che a loro modo si amassero in un modo forse noto solo ad alcune tribù di cacciatori di teste del borneo a difesa di mamma devo dire che netti cherry era una donna meravigliosa brillante gran lavoratrice pronta a sacrificarsi era fedele amorevole gentile ma diciamolo non era una gran bellezza quando anni dopo ho detto che mia madre assomigliava a graucio marx tutti hanno pensato che scherzassi morì a 96 anni e negli ultimi tempi soffriva di demenza senile pur tra i deliri conservò fino ad ultimo la sua abilità di lamentarsi che aveva elevato a forma d'arte quanto a mio padre parzillo oltre i 90 anni non lasciò mai che le preoccupazioni gli rovinassero il suo non è che qualunque tipo di pensiero riturbasse la vita diurta la sua filosofia si riassumeva nella massima quando c'è la salute c'è tutto essenziale come un biglietto in un biscotto della fortuna ma più profonda di gran parte del pensiero occidentale e lui di salute ne aveva da vendere a me non mi preoccupa niente si vantava sei troppo stupido perché qualcosa ti possa preoccupare cercava pazientemente di spiegargli mia madre mamma aveva cinque sorelle una più brutta dell'altra e lei verosimilmente le batteva tutte lasciatemelo dire la teoria freudiana secondo cui noi uomini desideriamo inconsciamente uccidere nostro padre sposare nostra madre casca miseramente nel caso della mia genitrice purtroppo anche se mia madre era un genitore molto migliore più onesto responsabile e maturo rispetto a quel donnaiolo dalla morale discutibile che era mio padre era lui quello a cui volevo più bene come tutti del resto immagino perché era un tipo affabile più affettuoso e disposto a manifestare i suoi sentimenti mentre lei era inflessibile era lei quella che impediva la famiglia di andare a rotoli teneva la contabilità di un negozio di fiori si occupava della casa faceva da mangiare pagava le bollette e metteva il formaggio nelle trappole per i topi mentre mio padre viveva al di sopra dei suoi mezzi e mi infilava in tasca biglietti da 20 dollari mentre dormivo quelle poche volte che la fortuna gli sorrideva era festa grande per tutti papà giocava alla lotteria clandestina ogni santo giorno era quanto di più simile all'osservanza di una religione ci fosse nella sua vita e che vincesse 100 dollari uno solo li spendeva tutti prima di tornare a casa in che cosa vestiti e altri generi di prima necessità come palle da golf truccate da usare con i suoi amici in ogni caso i primi beneficiati eravamo io e mia sorella letti ci iniziava con la stessa munificenza che suo padre aveva riservato a lui per esempio a un certo punto mio padre lavorava di notte sulla bauer come cameriere niente stipendio solo mance eppure ogni mattina il mio risveglio e allora andavo alle superiori trovavo cinque dollari sul comodino gli altri ragazzi che conoscevo avevano una paghetta settimanale di 50 centesimi un dollaro al massimo e io avevo cinque dollari al giorno in cosa rispendevo roba da mangiare attrezzi da illusionista oppure me li giocavo a carte o a dati ero diventato un prestigiatore dilettante perché non c'era niente che amassi più dell'illusionismo mi era sempre piaciuto tutto ciò che richiedeva isolamento come esercitarsi nei giochi di prestigio suonare uno strumento o scrivere era un modo per evitare di avere contatti con gli altri esseri umani che non mi piacevano né mi ispiravano fiducia senza che ci fosse un motivo particolare dopo tutto ero circondato da un parentato affettuoso che era sempre stato gentile ma era come se ci fosse in me qualcosa di abietto nel frattempo me ne stavo da solo con le mie monete le mie carte imparando a manipolare il mazzo a fingere di mescolarlo e di tagliarlo a distribuire le carte dal basso e nasconderle tra le mani in ogni caso un essere abietto come me capì in fretta che se potevo estrarre un coniglio dal cilindro potevo anche barare a poker e avendo ereditato da mio padre i geni della fraudolenza presto mi trovai a spennare polli distribuire le carte che volevo io intascare le paghette di tutti i miei coetanei ma non intendo dilungarmi oltre sul mio passato di piccolo farabutto vi stavo raccontando dei miei genitori e non sono ancora arrivato al punto in cui mamma dalla luce la sua piccola canaglia mio padre ce la spassava e mia madre costretta a far fronte ai problemi della sopravvivenza quotidiana era tutta casa e lavoro era una donna intelligente ma non certo un intellettuale e sarebbe stata la prima ad ammetterlo fiera com'era del suo buon senso in tutta franchezza la trovavo rigida e opprimente ma era perché voleva che combinassi qualcosa a cinque o sei anni feci un test di intelligenza non vi dirò il risultato ma mia madre ne rimase impressionata le raccomandarono di mandarmi a una scuola speciale per bambini plus dotati l'unter college ma si trovava a manatta nel tragitto in metropoli da brooklyn era troppo oneroso per mia madre per mia zia che si alternavano ad accompagnarmi così tornai alla public school dove i primi a essere ritardati erano gli insegnanti ho sempre odiato tutte le scuole probabilmente non avrei ricavato nulla neanche dall'unter college se ci fosse rimasto mia madre non faceva che vessarmi con un quoziente di intelligenza così alto come potevo essere un tale asino un esempio alle superiori avevo fatto due anni di spagnolo quando andai alla new york university riuscì a iscrivermi al corso di spagnolo per principianti assoluti e ciò nonostante pennibocciato in ogni caso l'intelligenza di mia madre non si estendeva alla cultura così sia lei sia mio padre che non erano mai andati oltre il baseball il pinnacolo e i film di opa longa cassidi mai una sola volta mi portarono a teatro o in un museo la prima volta che andai a vedere uno spettacolo broadway avevo 17 anni e scoprì l'arte quando marinavo la scuola avevo bisogno di stare in un posto caldo i musei erano gratis o costavano poco l'unico libro che mi accompagnò della mia crescita fu la gang di new york di herbert asbury che apparteneva a mio padre e mi trasmise il fascino dei criminali e delle loro imprese i nomi dei gangster mi erano familiari come quelli degli sportivi lo erano la maggior parte dei ragazzi della mia età e conoscevo anche le stelle del cinema grazie a mia cugina rita che tappezzava le pareti di camera sua con le foto a colore di modern screen tornerò a parlare di lei in quanto illuminò enormemente i miei primi anni e per questo si merita il debito spazio a parte le gang di new york la mia biblioteca consisteva solo di fumetti e non lessi nient'altro fino a 16 o 17 anni i miei eroi letterari non erano julian sorel raskolnikov o gli zottici della contea di yakna tapatofa erano batman superman flash gordon oltre a paperino bugs bunny e archie andrius gente state leggendo l'autobiografia di un misantrope ignorante e patito di gangster di un solitario incolto che se ne stava davanti a uno specchio attreante a fare esercizi con un mazzo di carte per nascondere un asso di picche nel palmo della mano renderlo invisibile da qualunque angolazione e gabbare qualche ingenuo certo alla fine venne travolto dalle massicce mele di sesanne dai piovosi boulevard di pissarro ma ripeto solo perché pigiavo e avevo bisogno di un riparo in quelle gelide mattine invernali a 15 anni venne ammaliato da matisse chagardano alde kirchner e schmidt rotluf da guernica e dagli immensi e caotici polloco dal trittico di beckham e dalle nere sculture di louis neverson pranzavo alla caffetteria del moma poi scendevo nella saletta sottostante a vedere qualche classico carol lombar william powell spencer tracy di certo meglio del muso inaccedito della professoressa schwab che chiedeva la data dello stamp act o la capitale del minnesota a seguire bugia a casa e a scuola il giorno dopo frenetici sotterfugi giustificazioni contraffatte inevitabilmente smascherate rabbia dei genitori e il tormentone con quel quoziente di intelligenza che ti ritrovi che non era così alto cari lettori anche se a sentire mia madre avrei dovuto essere capace di spiegare la teoria delle stringhe ma lo vedete dai film che ho fatto alcuni sono divertenti ma nessuna delle mie idee sarà mai la base di una nuova religione e poi non mi vergogno ad ammetterlo non mi piaceva leggere al contrario di mia sorella era un ragazzo pigro che non provava alcun piacere a immergersi nei libri e perché avrei dovuto la radio e film erano molto più elettrizzanti erano meno esigenti e più coinvolgenti a scuola non avevano la minima idea di come far amare la lettura i libri e le storie che sceglievano con tanta cura erano tediosi stupidi sterili non c'era nulla di paragonabile a plastic man o capitan marvel pensate che un ragazzino in piena tempesta ormonale anche in questo caso alla faccia di freud non ho mai avuto una fase di latenza in cui piacevano i film di gangster con bogart e gagni e le bionde sexy e pettorute si potesse appassionare al dono dei magi di o henry un racconto in cui la protagonista femminile vende i suoi capelli per comprare la catena di un orologio al maritino e lui vende il suo orologio per comprarle un assortimento di pettini l'unica morale che ne ricavavo era che è sempre meglio regalare soldi a me piacevano i fumetti per quanto elementare fosse la loro prosa e quando più tardi mi iniziarono a shakespeare me lo inflessero in modo tale da desiderare di non udire più per il resto della vita espressioni come meco indulgenti e lacrime generose in ogni caso cominciai a leggere solo alla fine delle superiori quando avevo gli ormoni in subuglio iniziava a notare le ragazze con i capelli lunghi e lisci niente rossetto e poco trucco trucco che andavano in giro con maglioni a dolce vita neri gonne con lande lo stesso colore grosse borse di pelle brandendo copia della metamorfosi di kafka con annotazioni margini tipo sono d'accordo o confronta kirkegaard per quanto potesse essere irrazionale erano loro a conquistare il mio cuore e la mia carne e quando chiedevo se volevano andare al cinema o a vedere una partita di baseball e mi sentivo rispondere che preferivano ascoltare segovia o vedere una cosa di jonesco off broadway dopo un silenzio imbarazzante replicavo possiamo risentirci domani e mi precipitavo a casa a cercare chi fossero segovia e jonesco va detto che queste signorine non aspettavano con ansia il nuovo numero di capitan america neanche il nuovo mickey spillane l'unico poeta che fossi in grado di citare e quando alla fine ce la fece a uscire con una di queste piccole incantevoli bohemianne fu un'esperienza scioccante per entrambi per lei perché dopo qualche minuto aveva capito di essere stata incastrata da un ignorante che sembrava non avere mai letto dedalus ritratto dell'artista da giovane e per me perché mi rendevo conto di essere una capra e se mai speravo di baciare quelle labbra prive di rossetto o di vedere quella ragazza un'altra volta dovevo immergermi in qualcosa di più sostanzioso di un bacio e una pistola non potevo cavarmela con aneddoti sull'acchi luciano dovevo darmi un'infarinata di balzac tostoi e elio di modo da reggere la conversazione non dovere improvvisamente accompagnare a casa la ragazza in questione dopo che aveva detto di essere stata colpita da un attacco di febbre gialla nel frattempo sarei finito da do bros a piangermi addosso con gli altri miseri che avevano ricevuto un 2 di picche sabato sera ma queste debacle erano ancora a venire adesso che vi siete fatti un'idea dei miei genitori dirò qualcosa della mia unica sorella dopodiché tornerò indietro e mi deciderò a nascere così che il racconto possa davvero partire letti a otto anni meno di me naturalmente quando stava per venire al mondo i miei genitori mi prepararono nel solito modo quello più sbagliato quando nascerà tua sorella tu non sarai più il centro dell'attenzione tu non riceverai più regali lei invece sì tutti noi ci dovremo concentrare su di lei e suoi bisogni e tu non sarai più il primo nome in cartellone rassegnati qualunque altro ragazzino di otto anni sarebbe stato un po turbato di fronte alla prospettiva di essere improvvisamente messo da parte a favore di un nuovo arrivato ma anche se volevo un gran bene ai miei genitori sapevo che erano un paio di dilettanti senza alcuna predisposizione per la puericultura e che le loro cupe profezie erano aria fritta e infatti fu così penso che vada scritto al loro merito il fatto che anche se recitavano la parte delle cassandre io sapevo benissimo che non mi avrebbero mai abbandonato e si sarebbero occupati del mio benessere e della mia felicità non ebbi smentite nel momento in cui guardai dentro la culla fui conquistato dalla mia sorellina la mai l'aiutai a crescere le feci scudo dagli attriti tra i miei genitori che potevano assumere proporzioni epiche partendo da questioni banali una discussione sul gefil fisch poteva generare una battaglia degna di omero comunque io giocavo con letti e spesso me la portavo dietro quando uscivo con gli amici loro la trovavano carina intelligente noi due andavamo d'amore e d'accordo mi viene in mente una lettera che mi scrisse graucio marx con cui avevo finito per stabilire rapporti amichevoli grazie a dick cabet ne riparleremo bene quando morì arpo scrisse a graucio e lui mi rispose che in tutti quegli anni lui arpo non avevano mai litigato né si erano presi a male parole lo stesso posso dire io di mia sorella che oggi produce i miei film ma adesso sono pronto per nascere finalmente faccio il mio ingresso nel mondo un mondo in cui non mi sarei mai sentito a mio agio che non avrei mai capito che non avrei mai accettato o perdonato alan stewart conisberg nato il primo dicembre 1935 a dire il vero nacque il 30 novembre quando era quasi mezzanotte e i miei genitori spostarono la data in modo che potessi cominciare dal primo giorno del mese non ne ho ricavato alcun vantaggio avrei preferito che mi avessero lasciato di che vivere di rendita se ne parlo è solo perché per una di quelle ironie della sorte prive di qualunque significato otto otto anni dopo mia sorella nacque nello stesso giorno non che se ne possa ricavare che neanche mia madre mi partorì in un ospedale del bronx anche se abitava a brooklyn non chiedetemi perché fece tutta quella strada forse l'ospedale dava i pasti gratis e comunque non tornò subito a casa di fatto in quell'ospedale rischiò di lasciarci le penne per qualche settimana fu più di là che di qua ma a suo dire le flebo fecero miracoli per fortuna se mi avesse tirato su solo mio padre a quest'ora avrei una fedina penale lunga come la Torah invece con due genitori amorevoli sono venuto su sorprendentemente neurotico non chiedetemi il perché ero il centro dell'attenzione delle cinque sorelle di mia madre il cocco di quelle dolci in piccione sempre in fibrillazione per l'unico nipote maschio avevo sempre di che mangiare di che vestirmi non mi beccai malattie gravi come la poliomelite che all'epoca imperversava non avevo la sindrome di down come un bambino della mia classe non avevo la gobba come la piccola genine soffrivo di alopecia come un ragazzino che si chiamava schwarz ero sano ben voluto atletico ero sempre il primo a essere scelto quando si facevano le squadre sapevo correre e lanciare la palla eppure non si sa come sono riuscito a diventare un neurotico pieno di fobie dalla vita emotiva disastrata sempre sul punto di perdere l'autocontrollo un misantropo solitario claustrofobico inacidito impeccabilmente pessimista alcuni vedono il bicchiere mezzo vuoto altri lo vedono mezzo pieno io ho sempre visto la vara mezza piena sono riuscito a evitare quasi tutte le mille ingiurie naturali retaggio della carne ma non ho meccanismi di difesa di fronte alla realtà mia madre ha sempre detto che era un bambino dolce e gioioso fino a cinque anni dopodiché sono diventato un ragazzino sgradevole musone e marcio dentro eppure non mi sono stati traumi nella mia vita non è successo niente per trasformarmi da bimbo lentiginoso e sorridente a giovinastro eternamente insoddisfatto la mia ipotesi è che all'età di cinque anni o giù di lì divenni consapevole del concetto di mortalità e pensai che non era mica nei fatti qualcuno mi aveva avvertito che non era previsto che fossi eterno se non mi spiace rivolgo indietro i miei soldi crescendo mi divenne più chiara non solo la finitudine dell'esistenza ma anche la sua assenza di senso e incocciai contro la stessa domanda che angustiava il noto principe danese perché soffrire oltraggi di fortuna sassi e dardi quando basta che mi bagni il naso e lo metta nella presa della corrente per non avere più a che fare con angoscia crepaguore e il pollo lesso di mia madre amleto scelse di non farlo per paura di ciò che gli sarebbe potuto succedere nell'aldilà ma io non credo nella vita dopo la morte quindi data la cupa visione che ho della vita dopo la morte della sua dolorosa assordità perché andare avanti alla fine non sono stato in grado di trovare un motivo plausibile sono giunto alla conclusione che noi uomini siamo semplicemente programmati per resistere alla morte il sangue più forte del cervello non c'è motivo logico per cui rimanere attaccati alla vita ma chi se ne importa di quello che dice la testa il cuore dice hai visto l'ola in minigonna per quanto ci lamentiamo insistiamo a volte in modo del tutto persuasivo che la vita è un incubo di lacrime di sofferenza se uno entrasse improvvisamente nella nostra stanza con un coltello intenzione omicida reagiremo subito lotteremo con tutta la nostra energia per disarmarlo e sopravvivere nel mio caso scapperei e tutto ciò ripeto non è che una caratteristica delle molecole di cui siamo fatti a questo punto probabilmente avrete capito non solo che non sono un intellettuale ma anche che sono una persona da evitare ai parti tra parentesi è sorprendente quanto spesso io si etichettato come intellettuale è vero quanto è vero che esiste il mostro di Loch Ness e dal momento che non ho un solo neurone intellettuale nel cervello incolto e per nulla interessato lo studio sono cresciuto con tutte le premesse per diventare un buzzurro che se ne sta in poltrona davanti alla televisione birra in mano e partita di football ad alto volume paginoni di playboy attaccati con lo scotch alla parete posso sfoggiare giacche di tweed come un professore di oxford ma dentro sono un barbaro non ho né intuizioni geniali né pensieri elevati non capisco la maggior parte delle poesie più complesse della vispa teresa certo porto un paio di occhiali con la montatura nera e suppongo che siano loro a tenere viva questa leggenda in combinazione con il talento il talento di appropriarmi di citazioni di testi eruditi che vanno al di là della mia comprensione ma che possono essere rodati nel mio lavoro per dare l'ingannevole impressione di essere più colto di quanto non sia riprendiamo il racconto sto crescendo in una bolla accudito da un mucchio di donne propense alle smancerie da quattro nonni affettuosi il padre di mio padre bene ho già parlato è quello che aveva conosciuto la ricchezza andava a londra in nave solo per le corsa dei cavalli aveva un palco all'opera adesso era diventato povero campava di non si sa bene cosa sua moglie era un emigrante come lui sposata per poter andare negli stati uniti lei fuggiva dai pogrom russi lui dal servizio di leva da vecchia sembrava un acino di uva secca viveva con il marito e la progenia in una stamberga redata con dubbio gusto e con un pianoforte verticale che non suonava mai nessuno ma era affezionata a me generosa malgrado l'indigenza mi aveva di nascosto soldini e zollette di zucchero senza chiedere nulla in cambio se non di andare a trovarla ogni tanto anche i nonni materni mi volevano bene la mamma di mia mamma era sorda e in sovrappeso se ne stava tutto il giorno seduta davanti alla finestra dall'aspetto forse si sarebbe trovata più a suo agio su una foglia di nifea e non invece il nonno era una persona virile attiva sempre in sinagoga ed ecco come un essere abietto come me ripagava la sua gentilezza che i miei amici eravamo venuti in possesso di un nichelino falso pura latta non osavamo spenderlo al negozio di dolciumi per paura di finire in riformatorio così mi offrì di rifirarlo a mio nonno cui l'età non aveva insegnato la furbizia apri il borsellino e mi in cambio cinque monetine da un centesimo e non fu come in quei film in cui il vecchio ridacchia perché ha sgamato il ragazzino e lo seconda con una strizzatina d'occhio no lo fregai proprio gli estorsi le cinque monetine gli rifilai il nichelino di latte andai a comprarmi arachidi ricoperte di cioccolato ma il vero arcobaleno della mia infanzia fu mia cugina rita aveva cinque anni più di me era bionda rotondetta e forse nessun altro ebbe un'influenza altrettanto significativa sulla mia vita di cognome faceva wish nick anche suo padre era un ebreo russo in fuga che in origine si chiamava vi sneki era una ragazza attraente cui la poliomielite aveva lasciato una lieve sopia e che si era affezionata a me mi portava ovunque al cinema in spiaggia al ristorante cinese al mini golf e giocava con me a qualunque cosa scacchi carte monopoli mi presentava tutti i suoi amici ragazzi e ragazze più grandi di me che sembravano apprezzarmi per quello che ero e frequentandoli divenni molto sofisticato per un ragazzino la mia crescita subì una accelerazione avevo anche amici della mia età ma passavo parecchio tempo con rita la sua compagnia erano ragazzi ebrei della classe media intelligenti che studiavano per diventare giornalisti insegnanti medici avvocati ma torniamo ai film la grande passione di rita e ricordatevi che io avevo cinque anni e lei dieci oltre a tappezzare le pareti di camera sua con foto a colore di tutte le star andava al cinema regolarmente nella fattispecie tutti i sabati a mezzogiorno in general metwood dove si potevano vedere due film con un solo biglietto e mi portava sempre con sé vedevo tutto quello che sfornava hollywood film di serie b compresi sapevo che erano gli attori imparavo a riconoscere i caratteristi anche le canzoni dato che rita io passavamo un sacco di tempo ad ascoltare insieme la radio programmi come your it parade e all'epoca la radio rimaneva accesa da quando ti svegliavi a quando andavi a letto musica notiziari e che musica la musica pop di allora era quella di col porter rogers and the heart even berlin george gershwin benny goodman billy holiday hearty show tommy dorsey tra film e canzoni non potevo lamentarmi prima due film alla settimana e poi col passare degli anni sempre di più com'era emozionante entrare nel midwood il sabato mattina con le luci ancora accese una piccola folla che comprava dolciumi prendeva posto mentre i gestori mettevano su dei dischi per evitare ribellioni prima che si spegnessero le luci i paralumi erano rossi lampadari di ottone dorato la moquette rossa alla fine le luci si abbassavano le tende si aprivano e sullo schermo d'argento compariva un logo che faceva venire l'appolina in bocca al cuore se posso mescolare le metafore in modo pavloviano vedevo tutto commedie western storie d'amore film di pirati film di guerra molti decenni dopo passando con dick covet per una strada dove un tempo c'era una sontuosa sala cinematografica guardammo il lotto di terreno vuoto e ricordammo che una volta seduti proprio lì in mezzo venivamo trasportati in città straniere che brulicavano di intrighi in deserti attraversati da romantici beduini in velieri trincee palazzi a riserve indiane presto un condominio sarebbe sorto sulle manciere del rix café da ragazzo i miei film preferiti erano quelli che chiamavo champagne comedies mi piacevano le storie che si svolgevano in attici dove dall'ascensore si entrava direttamente nell'appartamento i tappi volavano e uomini raffinati che pronunciavano dialoghi spiritosi flirtavano con donne bellissime che giravano per casa con vestiti che oggi si userebbero per un matrimonio a buckingham palace questi appartamenti erano enormi in genere duplex con tanto spazio vuoto appena entrati gli ospiti si dirigevano quasi sempre verso un mobile bar e si versavano da bere da bottiglie di cristallo tutti bevevano in continuazione nessuno vomitava nessuno aveva il cancro i tubi non perdevano e se squillava il telefono nel cuore della notte gli abitanti degli attici di park avenue non brancolavano nel buio come mia madre rischiando di rompersi una gamba per cercare l'unico nero apparecchio di casa e venire a sapere che magari un parente era appena passato a miglior vita no katry nebborn spencer tracy kerry grant o mirna loi allungavano un braccio sul comodino dove il telefono solitamente era bianco e le notizie non riguardavano metastasi o trombosi coronari che frutto di anni di cibi con troppo colesterolo ma dilemmi di soluzione più immediata tipo prego cosa vuol dire che il nostro matrimonio non è valido è una torrida giornata d'estate e passi la mattina riportando i vuoti in negozio a due centesimi la bottiglia raggranella il necessario per un biglietto al midwood al voggo all'elmi tre cinema del quartiere a 3.000 miglia di distanza ci sono dei normalissimi tedeschi che per nessun motivo si divertono a fucilare ebrei o mandarli nelle camera gas e non hanno problemi a trovare complici in mezza europa e tu ti fai una sudata in coni al island a ben una brutta strada piena di rivenditori di auto usate agenzie di pompe funne per i negozi di ferramenta finché l'elettrizzante insegna diventa visibile il sole adesso è alto e feroce il tram sferragli e le automobili strombazzano due uomini sono bloccati nella coreografia idiota della rabbia urlano e cominciano a menare le mani e quello più piccolo e debole corre a prendere una chiave inglese tu compri il biglietto entri la calura e la luce abbagliante scompaiono e ti ritrovi in un mondo alternativo fresco e buio sono solo immagini certo ma che immagini la maschera una tempata signora vestita di bianco ti accompagna al tuo posto con una torcia hai speso il tuo ultimo nichelino in deliziosi dolciumi dai nomi fantasiosi jujube o chuckles e adesso volge lo sguardo allo schermo dove al suono di melodie di indescrivibile bellezza composte da col porter o da irving berlin appare lo skyline di manatte sono in buone mani non vedrò uomini in tutta dal lavoro che si alzano all'alba per mungere le mucche il cui scopo nella vita è vincere una medaglia alla fiera del bovino addestrare il proprio cavallo a diventare un campione di trotto grazie al cielo nessuno verrà salvato da un cane né ci saranno campagnoli che bevono infilando il dito nel manico di una caraffa da whisky o annodano la lenza all'alloggi di un ragazzo che si è addormentato mentre pescava tutt'oggi se la prima inquadratura di un film il dettaglio della bandierina di un tassametro che viene abbassata rimango ma se la bandierina di una cassetta della posta esco al risveglio le tende della camera da letto si aprono e i miei personaggi vedono i grattacieli di new york e che brulicano di possibilità fanno colazione o a letto su vassoi che hanno il posto dove infilare il giornale o su tavole apparecchiate con tovaglie di lino posate d'argento dove le uova la coc vengono servite su pratici porta uova e sulle prime pagine dei quotidiani non si parla di campi di sterminio ma al massimo c'è la foto di una bella ragazza in companchia di qualcuno il che turba fredda ster dato che è innamorato di lei ma se è una coppia sposata a fare colazione vedi che sono ancora innamorati dopo tanti anni lei non gli rinfaccia i suoi fallimenti e lui non le dà della vecchia megera e finito il primo film il secondo è un thriller dove un detective con la faccia da duro risolve i problemi della vita sono di cazzotti alla mascella e alla fine se ne va con una sventola tutta curva che non ho mai visto né a scuola né a tutti i matrimoni funerali e bar mitzvah qui sono andato anche se è un funerale non sono mai andato me lo sono sempre risparmiato il primo e unico cadavere che ho visto è stato quello di telonis monk stiamo andando a cena da helen's e mi fermai in un salone di pompe funebri sulla terza e venuto per rendergli omaggio con me c'era mia a farro era da poco che ci frequentavamo e ha condiscese la mia richiesta malgrado lo sconcerto avrebbe dovuto capire subito che stava mettendosi con una persona sbagliata ma fuoco e fiamme venderò venderò adesso è finito anche il secondo film lascio la magia oscura e confortevole della sala cinematografica e mi immergo nuovamente nel sole nel traffico di coni island e ben e torno nello squalido appartamento di aven ok nelle grinfie del mio nemico numero uno la realtà in una sequenza comica di un mio film che si chiama il dormiglione divento imprevedibilmente blanche dubois in un tram che si chiama desiderio parlo con accento femminile del sud degli stati uniti cercando di far ridere mentre diane keaton fa una perfetta imitazione di marlon brando keaton protestava dicendo di non essere capace come le ragazze che a scuola si lamentano di avere sbagliato il compito in classe poi si scopre che hanno preso 10 ovviamente il suo brando è meglio della mia blanche ma quello che voglio dire che nella realtà io sono blanche blanche dice non voglio la realtà voglio la magia e io sempre disprezzato la realtà e bramato la magia ho cercato di essere un mago ma scoperto di saper manipolare solo carte e monete e non l'universo mi fermo qui vi ho fatto ascoltare alcune pagine l'introduzione per essere più precisi di a proposito di niente di woody allen io spero di aver fatto cosa gradita a tutte voi a tutti voi che ci seguite con affetto ormai da tanto tempo insieme a michele rigoni naturalmente vi do appuntamento a giovedì prossimo vi raccomando come sempre di uscire il meno possibile di stare in casa approfittando della grande passione per la lettura che passione che ci unisce oppure andate a riascoltare tutte le altre puntate chiamiamolo così di storie lette che trovate sia sulla nostra pagina facebook che su una pagina su youtube storie lette e anche su youtube come ormai sapete da un po di tempo grazie ancora vi auguro veramente una bellissima serata ci sentiamo ci vediamo fra qualche giorno arrivederci